Tracciare l'esagono dato il lato. Tracciare il lato dato AB. Con raggio uguale al lato, centrare in A e in B e tracciare due archi che si intersecano nel punto O. Con lo stesso raggio, centrare in O e tracciare la circonferenza circoscritta all'esagono. Sempre con la stessa apertura di compasso, centrare in A e in B e trovare i punti F e C. Infine, centrare in F e in C e trovare E e D. Unire tutti i vertici.